Le emozioni sono quelle delle ragazze, vederle contente è la cosa più bella, poi è chiaro che adesso è un passaggio, è uno step che abbiamo fatto, adesso pensiamo a recuperare e poi ci concentriamo su sabato. Appunto, adesso sabato alle 16.30 la finalissima, non le chiedo quale sarà l'avversaria che vuole sfidare, ma appunto cosa dirà alle sue ragazze e come preparerete questo appuntamento in questi due giorni? Come abbiamo preparato le altre partite e soprattutto quello che ci diremo e quello che ci siamo sempre detti, di avere fiducia nel percorso che stiamo facendo, delle difficoltà superate e delle gioie che cerchiamo di raggiungere. Grazie mille mister. Grazie a tutti. Siamo qua con Monica Renzotti, grande protagonista del match, autrice del quarto gol, raccontaci cosa hai provato quando hai visto la palla entrare in gol. È una grande emozione, soprattutto per me che è il terzo anno in semifinale, cioè ho vissuto tutti questi anni e sono felice, sono orgogliosa per le mie compagne e non vedo l'ora di andare in finale e giocare col cuore, con la grinta come abbiamo fatto oggi perché oggi abbiamo fatto una grandissima partita da squadra e siamo proprio un bel gruppo, quindi sono orgogliosissima delle mie compagne. Abbiamo visto che ti sei addirittura durante l'esultanza fatta male, spero non sia nulla di grave, ma a parte questo insomma è una partita perfetta e finalmente dopo anni siete riusciti a battere la Roma, detentrice del titolo, quattro volte di fila a scudetto, voi avete fatto una grande partita oggi. Sì sì, infatti penso, sono sicura che questo sia un grande passo in avanti per noi, abbiamo battuto una grande squadra, abbiamo dimostrato di essere mature come squadra, ci siamo aiutate l'una con l'altra. I crampi sono l'ultima cosa a cui penso in questo momento perché sono felicissima e non vedo l'ora di andare con i miei compagni a festeggiare. Ultimissima, prima del match avevi raccontato che hai una scaramanzia, le dita fasciate, in questo momento non le vedo ma per la finale immagino che saranno belle. Sì sì, sempre le faccio perché come ripeto non sono me stessa senza quelle, quindi scaramanzia sempre e basta. Grazie infinite e ancora complimenti. Grazie.